Chiudi l'acqua, chiudi termosiforio! C'è una vista laggiù! È Gaston! Gaston? Sono tre giorni che girano due. Non teme il freddo di questo inverno? Non lo teme. Oppure ha creduto a tutto quello che gli hanno raccontato? E ora che gli hanno staccato anche il contatore viene a cercarci. Non si libererà mai della propria incoscienza. Lui odia e ama la Russia come odia e ama se stesso. La vita di Metanol è una triste storia. Sì, Metanol si chiamava una volta prima che lo trovasse il controllore. Prima che gli aprisse la porta. Che peccato che Enel non gli abbia staccato anche la luce. Peccato? È stata la pena che gli ha fermato la mano. Molti di quelli che vivono meritano bollette salate. Molti di quelli che muoiono meritano bollette agevolate. Tu sei in grado di valutare Carbon? Non essere troppo ansioso di allargire sanzioni i Gastotti. Anche i più saggi non conoscono tutti gli esiti. Il mio cuore mi dice che Gastum ha ancora una parte da recitare nel bene o nel male. Prima che la storia finisca. 50% La pietà di Enel può decidere il destino di molti. Vorrei che questi anni non fossero capitati a me. Vorrei che non fosse accaduto nulla. Vale per tutti quelli che vivono in tempi come questi. Ma non spetta a loro decidere. Possiamo soltanto decidere cosa fare con il tempo che ci viene concesso. Ci sono altre forze che agiscono in questo mondo Carbon. A parte la volontà degli Stati Uniti. Enel era destinato a cambiare i contatori. Nel qual caso anche tu eri destinato a fare qualcosa. E se ti dai una mossa e un pensiero incoraggiante.